Buonasera a tutti ragazzi da Zebra. Sono uscite queste motivazioni che dicono che la Juventus ha commesso un illecito disciplinare sportivo. Tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione, lo spiega la Corte d'Appello della FICI la motivazione della sentenza del meno 15 ai club bianconero per il caso plus valenza. Nel merito è stato ritenuto che la Juventus abbia commesso illecito, visto la documentazione prevenuta dai dirigenti del club con valenza confessoria e dei relativi manoscritti, le intercettazioni inequivocabili e le ulteriori evidenze relative all'intervento di nascondimento, di documentazione o addirittura manipolazione delle fatture. Quindi praticamente le motivazioni ragazzi non sono, come avevo già detto, le plus valenze, ma sono soprattutto le intercettazioni che secondo la procura sono intercettazioni che inchiodano, che sono esplicite a commettere tale leato e i manufatti sarebbero il famoso libro nero di Parateci e altre documentazioni in cui dicono che era sistematico nel tempo fare tutto questo. Poi dice la Corte d'Appello federale della FICI ha messo la richiesta dalla procura della rovocazione del processo di plus valenza della Juventus di fronte al quadro dei fatti regalimentati. Vabbè, qua spiega il perché, vabbè, non c'è nulla da dire. In sostanza è questo perché la Juventus è stata colpita per 15 punti. Ora, io qui non sto a difendere la Juventus perché le carte non ce le ho, i giudici hanno letto, hanno fatto la procura, eccetera. Quindi non voglio dare per falsi, bugiardi, è una sentenza da schifo. Qualcosa c'è. Qualcosa c'è. Poi se per qualcosa hanno esagerato, c'è qualcosa altro di sotto che vogliono colpire la Juve, beh, questo ragazzi io non lo so. Io questo non lo so. Io questo non lo so. Però qualcosa c'è. Non ce lo neghiamo. Non ce lo neghiamo questo, ragazzi. Dobbiamo solamente ringraziare la vecchia società. Chi ci ha messo a disposizione in questo bordello, in questo schifo, in questo disastro? Io difendo solo i miei colori, difendo solo i colori bianconeri, difendo una bandiera che è il nostro punto di riferimento. Ma non difendo loro. Io non difendo loro, ragazzi. Non difendo la mia vecchia società. Neanche mia vecchia società. Punto. Non la difendo. Io non la difendo, ragazzi. Poi ripeto, se sono stati esagerati, c'è qualcosa sotto, io questo non lo so. Ma le intercettazioni sono chiare. Alcune intercettazioni sono chiare. Se vogliamo difendere, a prescindere perché vogliamo fare, come dico sempre, i tifosotti, facciavolo. Però sapete che siamo disonesti se facciamo questo. Lo sapete. Quindi, ragazzi, che cosa dire? La Juventus si difenderà, ma le motivazioni sono abbastanza chiare. E ve l'avevo detto, non erano le prosvalenze. Erano queste. Quello che avevo già, vi avevo già accennato. E la cosa non mi rincuora, ragazzi. La cosa non mi rincuora. Vedremo come finiranno gli altri atti. Rimango sempre più scioccato. Rimango sempre più basito. Però bisogna andare avanti. Vediamo cosa accadrà. Vediamo cosa accadrà. Vediamo cosa... La difesa, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Andiamo avanti e vedremo cosa riuscirà. Vediamo se tutto è andato come doveva andare, comunque. Con questo non voglio giustificare nessuno. Sempre Forza Juve. Un saluto da Zebra. Ciao ragazzi. Grazie a tutti. Grazie.